Siamo per Miss Cinema, con quale attore mi piacerebbe girare una scena di sesso? Buona domanda! Se volete la cambiamo che diamo il sogno nel cassetto. Va bene questa? Confermiamo? Perfetto. Con chi? Tu sai già chi è, che mi piace, quindi Van Damme. Ecco, Jean-Claude Van Damme. Qualcun... è bello? Non so, non è il mio tipo, io... Sono più d'Alvaro Vitali, quella commedia d'Italiana. Curiosità, allora, Jean-Claude Van Damme, con lui sinceramente, anche perché, diciamolo, tu sei sposata, tuo marito è lì, che se vede Van Damme gli tira quattro cazzotti per la strada, perché la ventesima serata che lei dice andrei con Van Damme, tu vedi un film, rompi il televisore. Ma detto questo, anche se sei sposata, Jean-Claude Van Damme dice, ok, c'è un film, si vuole una scena di sesso. La fai? Sì. Contento? O, ascolta, finché le corna si prendono da Van Damme? Io l'ho preso dal mio vicino di casa che aveva 42 anni, quindi è roba da ridere. L'applauso è per Emanuele Baldi. Scendereste a compromessi per vincere? Scendereste a compromessi per vincere? L'utile che guardi me come se avessi fatto le proposte io. Voi lo sapete, se voi ci state, io vi mando tutte a mano, eh? Cosa hai fatto? E' venuta in macchina con me, pensate, l'unico pirla che continua ad andare in bianco pur andando a prendere a casa. Un grande talento, un grande ruolo. Mero la cera, io faccio una figura opposta. Va bene, sei venuto in macchina con me, e allora a questo punto gli faccio una domanda. Poniamo che io, così la rendiamo più pratica, poniamo che dica, sono in grado di farti arrivare a salso maggiore. Tu ci stai? Non ti piace io o non ti piace salso maggiore? Non ti piace io, non sei la prima, non ti montare la testa. Allora salso maggiore che ne vai a fare le terme. L'applauso è per Valentina Valuccelli.